Carlo Della Pena se l'aspettava questo successo elettorale per lei? Essendo la prima candidatura sinceramente no, però ho cercato sempre di lavorare bene, magari potrebbe essere un dato che va letto come risultato di ciò che si è seminato anche in passato con le persone. Non so ancora bene il discorso eventuale che potrà andare a sviluppare Francesco in merito alla nomina d'assessore, come ho detto prima utilizzando una terminologia calcistica l'allenatore è lui, la formazione la fa lui. Quindi io posso soltanto promettere di impegnarmi assolutamente per dargli una mano e cercare di fare delle cose fatte per bene per la città di Vasto. Sarà un assessorato allo sport? Ripeto, non lo so, la formazione la fa lui, sono orgoglioso e onorato della sua considerazione anche alla luce di quello che può essere il risultato dal punto di vista elettorale. Ora attendo quella che sarà la sua scelta in merito. Grazie a tutti.